Un'altra occasione con l'ultimo concerto di questa stagione, poi di solito a novembre comincia a far freddo e allora già oggi pure sei una bella occasione con una cantante molto rava novembre per tante persone magari non è facile muoversi e iniziare a trovare di qui però mori pochi ma buoni, ci potremo, possiamo godere questa occasione di ascoltare un po' di musica real nello stile della garana di Guadios a cui appartiene la cantante Mila Baruani di Bomberio Thank you Sarà accompagnata la tavola da Federico Sanetis Sono, credo, 35 anni che io sto in professimento con un maestro indiano, molto bravo, c'è anche c'è a dire è stato qui molte volte anche a scolare, accompagnano gli uccisi indiani a livello di scuola di uccisi indiani Poi c'è la campura, l'accompagnamento che sarà non solo la campura ma locale di Lachmiral Bene, nella seconda parte, dopo iniziare, così magari anche io vedo di scatto e poi voi volete anche io di accompagnarmi con un maestro indiani Nel frattempo vi lascio al canto Il frattempo vi la visione Il frattempo vi è accanto Piere, aia a che? Grazie a tutti. 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 In the Indian context, it was Ravinana Tagore who understood the road and he really developed that idea of Komal Gandhar. He used to say, my Bengal is like Komal Gandhar. Now I think the world has come to such a phase. I don't know how long it will last but it's a phase of Komal Gandhar. I'm sure you all know what I mean. I don't have to explain. So I'm singing all the melodies with Komal Gandhar. The first melody is called Bhimpanas. Ganga plays Bhimpanas very well but today he is going to play some other Komal Gandhar Raga. So this is set in Ektaal. I'll begin the Rad. I'll begin the Rad. Vimpanas. Vimpanas. Grazie. 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 Un день... A... Un bale... Un bale... Un bale... Un bale... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti